Amici Basket Week e appassionati di Radio.tv, un cura del saluto da Giuseppe Sciascia, appuntamento numero 20 con il nostro settimanale con tutti i risultati di tutti i campionati e il basket del giorno dopo, stavolta il basket di due giorni dopo, in virtù comunque del fatto che la festività di Pasquetta ci ha fatto sdittare una tantum al martedì rispetto al tradizionale appuntamento del lunedì sera e chiaramente in virtù del fatto che proprio stasera, in contemporanea con la nostra trasmissione su Facebook e su Radio.tv, in diretta sul canale 861 del Gitele Terrestre, partono i playoff di Eurolega. Dunque, vetrina all'avventura di Milano, la sede contro l'Efes è partita, sta giocando in questi minuti contro i campioni in carica di Arginataman, secondo atto giovedì al Forum, ad un orario più canonico, quello delle 20.30. Oggi si gioca alle 19 per evitare la concomitanza con il derby di Coppa Italia di calcio, ma ci sono anche tante altre italiane impegnate nella fase decisiva delle coppe, Venezia e Virtus Bologna, in Euro Cup al Via con gli ottavi di finale ad eliminazione diretta. La finale di FIBA Europe Cup di Reggio Vigna è la prima in carriera per il veteranissimo Attilio Caia contro il Baceseir, domani sera andate e ritorno con il primo step in Italia. Parliamo chiaramente però di Milano e dei playoff di Eurolega, ma con finestra anche su Euro Cup, con Andrea Solaini, l'amico L, con la voce di Sky Sport per quanto riguarda la massima competizione europea. Ecco le sue considerazioni. Partono i playoff di Eurolega e ovviamente non potevamo non avere Andrea Solaini, la voce di Sky Sport e il master di Area 52, la trasmissione più in, più cool su Twitch per quanto riguarda la massima competizione europea, la massima competizione ECA per quanto riguarda le serie al Via. Ovviamente riflettori puntati su Milano-Efes, una grande difesa contro Larkin e Micic, sembra facile comunque individuare il tema chiave della serie. Sì, sembra facile. In realtà è un po' il leitmotiv di quando affronti l'Efes, è il problema che hanno tutte le squadre. È un problema che è rimasto irrisolto per lungo tempo. L'anno scorso nessuno l'ha risolto, infatti hanno vinto. Quest'anno il problema è che è una squadra che le ha passate tutte sostanzialmente. Cioè, ha un vissuto completo. Hanno vinto, hanno perso la finale, c'è stato il Covid nell'anno in cui praticamente erano la miglior squadra, ma di gran lunga. E quindi aspettarsi e capire che tipo di serie possano giocare contro Milano è veramente complicato, secondo me. Quindi io credo poco al, diciamo, il talento ha sempre la meglio. Forse sto diventando vecchio, forse ne ho viste un po' tante e penso che alla fine sia una componente di tutto ciò. E quindi quando arrivi a dire, beh però ci sono quelli due lì che fanno canestro, secondo me vuol dire che un pochino la cioccolata si è addensata, come direbbe qualcuno che noi conosciamo. E quindi credo che loro troveranno sorprese al forum. Cioè, io mi aspetto, così è, un po' il pastrello, come si direbbe in termini di Texas Holder, mi aspetto una Milano molto spumeggiante. Cioè, mi aspetto gara 1 e gara 2 molto convincenti dell'Olimpia e mi aspetto che vadano a Istanbul su 2-0 per chiudere in 3-4 partite. Quindi sono della linea di questo genere. So che molti pensano che l'Efes sia una squadra che appunto, siccome è campione in carica, ha tanti fuoriclasse, adesso inizia a giocare. Però io mi sono fatto quest'idea e nonostante quello che sembra il, come dire, la stagione, il corso della stagione abbia disegnato, c'è una Milano in calo e un Efes in crescita, io non credo troppo alla crescita dell'Efes e credo che il sistema Messina sia fatto per questi momenti. Quindi vediamo. Il campo da sfruttare, chiaramente, per una Milano che arriva dopo un periodo difficile tra infortuni e Covid, è quello che deve poi servire appunto per guadagnare il vantaggio fondamentale. Milano può crescere in termini di condizione, dovrebbe recuperare da Tome almeno dopo le prime due partite, quindi andare a Istanbul su 2-0 sarebbe fondamentale. Sì, ovviamente sì, in una Serie 5 andare sull'1-1 ti esporrebbe al problema di dover vincere una partita in casa, questa volta, dei due. Due famosi di cui parlavamo prima, subentrerebbe il fattore campo per davvero che ha anche l'Efes importante, il Siena Erdem è un pianto da 12.000 che sarà ovviamente stipato per gara 3 ed eventuale gara 4, quindi fondamentali le prime due. Ma ripeto, l'Efes l'ho usato il vissuto come immagine per dire che credo poco al discorso che molti fanno, si switcha e si va. Invece Milano, come dire, è all'interno di un vissuto diverso, ma ce l'ha anche Milano, comincia ad avercelo, cioè il fatto di aver giocato l'anno scorso la serie di playoff col Bayern, che questo gruppo grosso modo è rimasto lo stesso, conta. Conta tanto e è il momento in cui, secondo me, loro devono mostrarlo. Tra l'altro, il fatto di essere con qualche giocatore in meno non è un vantaggio, perché è ovvio che, per esempio, Mitoglu sarà un'assenza pesantissima. Probabilmente, se Milano andrà corta di poco, l'assenza di Mitoglu potrebbe essere addirittura decisiva. Però, togliendo questo ragionamento, visto che non c'è più e non è a disposizione, il fatto che non ci sia da tome per questa serie, magari, o comunque non parte per esserci. Qualche rotazione in meno. Shields, che ha usato questo mezzo di rientro per, come dire, trovare la condizione, può anche essere sia una serie dove magari Ettore Messina abbia rotazioni corte e trovi i suoi 7-8 che funzionano particolarmente bene contro la squadra di Ataman, che, secondo me, invece, andrà molto a, tra virgolette, come fa sempre, peraltro, non ha sensazioni, però è una squadra che gioca un po' in base a come si sveglia la mattina. Li vedi, ci sono delle partite, davvero, dove sembrano incontenibili e sono tutti connessi, tutti dritti, e altri dove hanno dei blackout francamente clamorosi. Vediamo se nei play-off succederà lo scenario che penso io, lo scenario che invece pensano, chi pensa che invece l'Efes andrà a Belgrado a difendere il titolo. Il 2-0 dai precedenti stagionali è comunque un fattore, quantomeno per dare fiducia a Milano, come diceva Ettore Messina in sede di presentazione di gara 1, o comunque si riparte completamente da zero perché sono due partite arrivate in momenti della stagione troppo diverse da quelle attuali? Inizialmente pensavo anch'io contasse poco perché comunque i play-off sono un altro animale rispetto alla regular season, però è anche vero che soprattutto la vittoria in Turchia non è arrivata così tanto indietro nel tempo e non penso per un discorso di influenzare l'Efes che gioca comunque una palacanesto tutta sua, nel senso prescindere da chi ha davanti, ma penso per la consapevolezza di Milano, l'idea di giocare con più tranquillità, gara 1 e gara 2 in casa, quel qui di tranquillità in più, sapendo che vai a giocare poi su un campo dove sai cosa fare per vincere, lo hai già fatto e hai già vinto, tra l'altro in un momento in cui l'Efes giocava per davvero perché stava rimontando e quindi Milano veniva anche da una brutta sconfitta, cioè ci sono tanti segnali che dicono che ovviamente l'incrocio è molto pericoloso, è più pericoloso paradossalmente verrebbe da dire rispetto a quello dell'anno scorso, pound per pound perché nonostante il quarto posto l'anno scorso arrivò il Bayern che è fortissimo di Andrea Trinchieri che però non era la squadra campione in carica e non era diciamo a livello di talento questo tipo di gruppo che ha a disposizione Ataman che invece è arrivato sesto, tra l'altro qualcuno dice anche appunto ci sarà la controprova di quello che veramente l'hanno fatto, cioè il suicidio di Belgrado negli ultimi due minuti per arrivare sesti e giocare contro Milano, io come ho già detto più volte non credo troppo a questa favoletta però è anche vero che non vi è controprova che non sia successo, io se fosse davvero successo ecco il mio scenario sarebbe proprio perfetto perché sarebbe proprio la dimostrazione di queste cose qua secondo me non vanno mai fatte, cioè che quando le fai alla lunga poi ti si ritorcono contro, quindi se lei che se l'ha fatta e dovesse perdere come penso io contro Milano nella serie sarebbe tutto visto insomma la famosa freccia che gira che poi sappiamo come finita cominciano anche i playoff dell'Euro Cup con Virtus Bologna e Venezia Virtus Bologna una delle grandi favorite con anche Tessin Galli in più che però non parte diciamo in una top seed del tabellone come può finire? No, non parte in una top seed è la parte della gioventù di Badalona che è la squadra che presumibilmente potrebbe trovare se dovesse battere come dovrebbe fare i lituani degli Eccabelis che sono il primo ostacolo in questa formula da 16 squadre, ottavi di finale, secche, molto bella secondo me per essere la seconda manifestazione del break club trovo che abbia molto senso che ci sia proprio una formula di rottura rispetto al discorso Final Four e playoff di Eurolega detto questo secondo me la Segafredo è comunque abbastanza padrona del suo destino perché è una squadra che se dovesse trovare la gioventù cioè dover andare a giocare a Badalona io non credo che sarebbe un grande problema dal punto di vista di mille cose da Sergio Scariolo che va in Spagna a il roster che ha un'esperienza europea importante da Eurolega quindi secondo me Bologna ha tutte le carte in regola assolutamente per andare fino in fondo io mi auguro addirittura la mia bold prediction che ho fatto a Rex 52 in una semifinale contro la Reier che se dovesse vincere a Parigi cosa non facile per Jack Cummings che è un vero drago sputafuoco ma non solo lui contro Bologna poi giocherebbe contro Valencia che non è proprio la cosa più semplice andare alla fontetta a vincere però Venezia mi sembra che... la regione regolare c'è quasi riuscita però devo dire appunto lo ha fatto per 35 minuti stavo dicendo poi gli ultimi 5 è andata corta però era un altro momento, un altro scenario e poi la partita secca quindi comunque in quel caso il fattore campo conta ma non come nelle serie secondo me perché nella partita secca ha il discorso della pressione immediata e può anche ritorcersi contro quindi speriamo una semifinale tutta italiana in caso contrario comunque hanno... secondo me non hanno un bruttissimo tabellone le nostre portacolore a livello di Eurocampo e dunque attualità stretta sui play-off europei di tutte le coppe ECA e FIBA ma nel weekend in realtà il sabato di Pasqua si è giocato anche il turno di campionato il turno numero 27 che ha intanto sancito il primo verdetto aritmetico in coda ossia la recessione in Serie A2 di Cremona dopo la sconfitta sul campo di Trieste tanti verdetti ancora da assegnare in vetta e in coda allora vediamo questo servizio sulla evoluzione delle volate play-off e salvezza a tre turni nel termine 5 verdetti assegnati ma 4 ancora da definire in una Serie A che a tre giornate nel termine ha ancora tanto da dire nelle volate play-off e salvezza 4 squadre hanno già in mano il biglietto per l'upo season che assegnerà il tricolore numero 99 Virtus Bologna, Milano, Brescia e Venezia da Segafredo con 4 punti di vantaggio e l'1-1 vantaggioso negli scontri diretti con Olimpia ha prenotato il primo posto stesso discorso si può dire di Milano nei confronti di Brescia 4 punti di vantaggio e 1-1 con differenza canestri in favore della formazione di Messina pertanto nelle prossime 4 partite considerando anche il recupero da disputare il 6 di maggio con la Virtus che sfiderà Sassari e Milano che se la vedrà controviso le formazioni di Messina e Scariolo potranno concentrarsi al 100% sulle rispettive volate play-off di Eurolega ed Eurocup terzo discorso per Brescia terza con vantaggio argomenticamente incolmabile nei confronti delle squadre che la inseguono al quarto posto e così come spiegava Alessandro Magro comunque per la Germani la possibilità di inserire senza patemi e con tutto il tempo necessario il califo Mike Brown quarto posto con volata invece per quanto riguarda Venezia e Tortona l'umana è aritmeticamente qualificata e la Bertramiozza ancora no ma è solo questione di aritmetica il calendario più agevole c'era comunque la formazione di Walter De Raffaele che punta a prenotare comunque il fattore campo nell'eventuale e molto probabile serie contro la formazione di Marco Ramondino che dal canto suo è in vantaggio nel doppio confronto ma avrà solo una gara a casa d'Inga sulle tre residue da disputare nella volata per le posizioni dal sesto all'ottavo posto di fatto la concorrenza è fra Sassari, Trieste e Reggio a quota 26 e Pesaro a 24 Sassari sarà probabilmente in qualche modo arbitra della volata salvezza dovendo ancora giocare contro Napoli e Varese dovendo fare visita a Napoli e Varese ancora una partita in più da recuperare contro la Virtus Bologna sulla carta il calendario più agevole dovrebbe averlo comunque proprio la Dinamo complicazioni per Trieste che affronterà due trasferte consecutive a Brimbisi e Tortone poi chiuderà in casa con Treviso la stessa Pesaro comunque dovrà far visita a Trento e Napoli avrà in casa a Venezia mentre Reggio Emilia avrà in casa a Milano andrà a Trento e ospiterà nell'ultima giornata la fortitudo tenendo conto comunque dell'impegno in corso per la formazione Natiglio Caia domani e il 27 di aprile impegnata nella finale di FIBA Europe Cup contro il Baceseir in chiave salvezza la fortitudo a due match ball due sconti diretti consecutivi domenica a Masnago sul campo di Varese ancora non uscito definitivamente dalla zona salvezza e poi il primo maggio in casa contro Napoli chiuderà poi l'otto maggio sul campo di Reggio Emilia che però giocando a Bologna sarà un fattore campo relativo Napoli ha due impegni casalinghi contro Pesaro e contro Sassari ma dovrà comunque vincere almeno uno per non rischiare contro la fortitudo visto la sconfitta interna dell'andata la stessa Varese sarà salva aritmeticamente se vincerà domenica contro la fortitudo altrimenti rischierà brutto avendo comunque proprio un possibile 0-2 contro l'Aquila Bolognese e uno 0-2 contro Treviso che è quella col calendario più difficile tra le squadre ancora impegnate nella bagarre salvezza 4-22 trasferta Venezia Trieste gare casalinghi contro Virtus Bologna e Milano delle altre squadre 22 Trento ha in casa Pesaro Reggio Emilia andrà sul campo della già retrocessa a Cremona mentre Brindisi ha Trieste Tortone in casa e Milano in trasferta i verdetti da segnare sono molteplici ovviamente le casistiche altrettanto intricate con tante possibilità di ricorrere la classifica bus soprattutto per le posizioni dal sesto all'ottavo dei playoff e per la seconda retrocessione preopper notati per 5 ma sostanzialmente soltanto una squadra è già virtualmente certa del suo piazzamento si tratta della Germani-Brescia che con il perentorio più 35 contro la Uno-Tels di fatto ha messo definitivamente le mani sul terzo posto nella giornata in cui si è presentato non in campo ma in tribuna John Brown acquisto davvero bomba per quanto riguarda il patron Mauro Germani parliamo con il coach Alessandro Magro del successo dei suoi e dell'inserimento di un giocatore che può davvero spostare gli equilibri in questo rush finale Alessandro Magro la Germani che riparte di slancio dopo la sconfitta sul campo di Tortona che ha interrotto una serie positiva davvero infinita uno oceanico più 35 contro Reggio Emilia per dare un segnale che Brescia c'è e c'è in maniera molto perentoria Sì abbiamo avuto questo ultimo periodo da Pesaro in poi dove non abbiamo potuto schierare Mike Hobbins che è un giocatore che ci dà enorme equilibrio abbiamo dovuto inventarci delle alternative anche da un punto di vista di line up con Kenny Gabriel giocando da 5 con David Moss impiegato molto in un quintetto small ball da 4 e avevamo prodotto delle buonissime prestazioni siamo andati a Tortona giocando contro una squadra decisamente molto organizzata ben costruita ben allenata e purtroppo non abbiamo potuto continuare la nostra striscia ma l'obiettivo era quello di intanto consolidare il terzo posto e poi prendere ogni partita come un'occasione per cercare di fare sempre un passo avanti di cercare di fare meglio l'abbiamo fatto davanti alla presenza di un nostro nuovo acquisto era importante fargli vedere in che contesto di squadra e di pubblico fosse arrivato quindi l'obiettivo è quello di provare a non fermarsi di provare a fare sempre il massimo possibile partita dopo partita oggi che siamo certi del terzo posto l'obiettivo adesso sarà farsi trovare pronti per la post season appunto partendo da la possibilità di reintegrare Mike Cobbins dopo l'infortunio e inserire un giocatore decisamente importante come John Brown contro L'Egeviglia 20 triple record stagionale in Serie A ma soprattutto 44-22 rimbanzo che senza Cobbins era un dato magari non così facilmente riscontrabile ed invece è stato un fattore importantissimo sì assolutamente credo che gran parte della nostra stagione anche se è molto più facile vedere i canestri vedere le prestazioni offensive di giocatori come Amedeo della Valle Mitrulong Petruccelli ma io credo che tanto di questa stagione sia stato fondato sulla capacità che i miei giocatori hanno di giocare una difesa efficace che ci permette appunto di tenere di proteggere l'area di poter essere veramente efficaci al rimbalzo difensivo e quindi questo ci dà la possibilità di correre molto in campo aperto quindi dobbiamo continuare su quella scia però è una stagione e non succede sempre perché per esperienza posso dire che non succede sempre dove il gruppo è veramente molto unito sono tutti sulla stessa pagina cercano di aiutarsi cercano di supportarsi provano a condividere il pallone in attacco gli sforzi in difesa quindi è un gruppo che si lascia allenare ed è piacevole stare in palestra con loro però c'è da aggiungere John Brown che è un giocatore di quelli che possono dare veramente un valore aggiunto per il motore se preciso che ha per la capacità di essere decisivo senza dover avere la palla in mano è proprio forse quello che può davvero far compiere un ulteriore salto di qualità alla vostra difesa io credo che ovviamente vista l'opportunità che si è presentata ringrazio il club credo ovviamente perché ci ha dato la possibilità di fare arrivare un giocatore di questo livello ma credo che sia veramente il fit perfetto per noi perché come tu hai detto è un giocatore che incarna di per sé le caratteristiche che questa squadra aveva già sarà un boost credo incredibile di energia è un giocatore che sa che cosa fare del pallone ma non necessita sempre del pallone in mano è un giocatore che ama e sa giocare con i compagni e difensivamente ci può veramente far fare il salto di qualità perché potendo ricoprire due ruoli ci dà la possibilità appunto di provare a non far calare mai il livello di intensità e di energia difensivo che poi ci permette di esprimersi come ho detto prima meglio in attacco quindi siamo curiosi di vedere come lui riuscirà da oggi l'allenamento di oggi a calarsi in questa realtà abbiamo la fortuna di avere tre partite da utilizzare proprio come test da questo punto di vista ma non ho grandi preoccupazioni credo che riuscirà non solo a farsi trovare pronto ma a giocare con i compagni nel migliore dei modi Sottero è ottimale anche legata alla classifica dove giustamente dicevi il terzo posto è sostanzialmente acquisito e molto difficilmente si potrà migliorare quindi Brescia è di fatto quasi l'unica ad avere già la certezza di dove partirà dal suo tabellone playoff quindi tra il recupero di Cobbins e l'inserimento di Brown sono dei test ottimali in una situazione senza delle pressioni di risultato assolutamente l'obiettivo in questo momento a prescindere da chi sarà la nostra avversaria a prescindere da quello che sarà poi il risultato finale è quello di provare a mettere in campo la miglior chimica di squadra possibile quindi avremo la fortuna appunto anche di provare un po' a sperimentare anche con quintetti che magari fino adesso non siamo mai riusciti a mettere in campo per più ragioni il fatto di poter avere al 100% sia Cobbins che Brown anche contemporaneamente in campo è una situazione che noi in questo momento non ci eravamo mai potuti permettere di sperimentare quindi ben vengano queste tre partite ben vengano queste tre settimane di allenamento dove l'obiettivo in questo momento sapendo che arriveremo terzi ma non sapendo chi incontreremo sarà concentrarsi molto sul nostro gioco sia in attacco che in difesa e farsi trovare pronti perché l'obiettivo in questo momento è adesso farsi trovare pronti per competere e cercare di visto che siamo a ballare provare a ballare il più possibile Ultima pagina scendiamo in Serie A2 dove è partita la fase ad orologio si è giocato a sabato di Pasqua e si giocherà già domani sera per il secondo dei quattro atti del secondo step che poi lavorerà le qualificate in chiave playoff prima giornata di fatto con fattore campo tutto favorevole le squadre al girono rosso si mischiano le carte sostanzialmente in questa seconda fase corta in vista di quelli che poi saranno gli incroci playoff e playout dove comunque girone rossi e girone verde almeno nel primo turno giocheranno l'uno contro l'altro tra l'altro soltanto due vittorie esterne in questa fase particolarmente importante quella di Biella Latina in chiave salvezza tra l'altro dopo le partite del weekend saltata la panchina di Capodorlando con il vice David Sussi promosso promosso al posto di Marco Cardani e questa fase orologio intanto con gli incroci ci permette di aprire un po' il ventaglio degli interessi stavolta la voce che ci racconta un po' il momento della Serie 2 sarà quella di Ivan Belletti il GM della benedetto 14esimo 100 che con una vittoria importante l'overtime contro Mantua ha prerotato il playoff del Giro Nostro sentiamo Ivan Belletti Ivan Belletti fase orologi iniziata col botto per 100 una vittoria pur col brivido l'overtime su Mantua che consegna aritmeticamente il playoff e ora ci diverte Sì siamo molto contenti abbiamo il nostro obiettivo fin dall'inizio dell'anno arrivare dal primo 8 che è un risultato per noi storico quindi prima volta per 100 playoff e adesso sì iniziamo da domani contro Treviglio una serie di partite molto interessanti e affascinanti con due trasferte che per noi sono un onore giocare con Treviglio a Torino in mezzo alla CJ perché è un altro derby che sicuramente sarà vincente quindi siamo molto contenti non ci vediamo qua naturalmente però diciamo che i nostri obiettivi sono stati raggiunti alla grande un genetico doppia-doppia 8 su 8 nel campo per Zildi che mi sembra un bel percorso netto una vittoria che vi rilancia dopo qualche settimana un po' affannosa Sì dopo il derby di Ferrara è stata una vera battaglia anzi passo indietro a Scaffati dovrebbero essere comunque 30 minuti di qualità poi dopo a Scaffati vediamo quello che stai facendo in casa quindi sicuramente hai una squadra che punterà fino alla fine a lottare per andare su il derby è stata una partita anche sfortunata se vogliamo chiusi onestamente dopo un po' qualche scoria delle due partite precedenti si sono notate quindi con Mantova lui ha fatto una partita di grande grande sacrificio contro una squadra molto fisica e talentuosa quindi ancora una volta Vili sta defando una partita ha fatto una partita super diciamo che forse uno dei migliori lunghi del campionato anzi se ne sa di forse e anche James sta dimostrando adesso un giocatore che forse merita anche la Serie A Centro che raggiunge il playoff per la prima volta nella sua storia in Serie A 2 nel momento in cui si torna ormai al 100% della capienza direi che meglio di così non poteva andare infatti abbiamo visto anche col derby di Ferrara che abbiamo fatto quasi tutto esaurito sabato magari non c'era molta gente perché purtroppo l'orologio prende dentro due festività perché prende sia la Pasqua che il 25 aprile che lunedì quindi dovevo un po' in qualche maniera cercare di invitare più gente possibile per poi arrivare il playoff e sperare di fare il penore ma sicuramente vedendo l'entusiasmo che c'è nella città non avremmo problemi a raggiungerlo il primo incrocio tra i due gironi tra il rosso e il verde ha premiato in maniera molto significativa le squadre del girono rosso solo questione di fattore campo favorevole nel primo turno l'orologio oppure è comunque uno spunto interessante anche in ottica proprio playoff ma guarda probabilmente nel girone verde le prime 3-4 squadre sono proprio molto forti mi viene da dire rispetto al nostro diciamo c'è un po' più di equilibrio su tutte le squadre quindi da noi magari non c'è la stessa Sassi che può essere Udino anche se è Cantù anche se anche loro hanno avuto i tenti di percorso però sono nettamente una squadra che mi ricorda la Napoli dell'anno scorso per intenderci nel nostro girone magari appunto anche se Scaffati ha fatto una settimana straordinaria come vedi dopo Scaffati c'è molto equilibrio anche se credo che Verona sia un'altra squadra che possa essere contendente alla vittoria finale quindi sicuramente il fattore casalingo conta però abbiamo visto le sorprese come magari Fabriano appunto che vince con Cantù e altre squadre che hanno dato un filo da torcere proprio perché è un girone in cui nulla è dato per scontato Giustati del weekend sicuramente che hanno fatto un po' scalpore non bene le lombarde di fatto tutte a secco a partire da Cantù sconfitta a sorpresa sul campo della Gerard Torcesa Fabriano con un knowledge da altri tempi di gara dall'ex da 24 punti 10 rimbatti chiaramente pesante l'assenza dell'infortunato Allen che si rivedrà solo nel playoff Bryant rientro non brillantissimo con 6 punti in 33 minuti alla fine Cantù che perde virtualmente lavorata per il primo posto con Udine e dovrà in qualche modo accontentarsi del secondo importante la vittoria di Scaffati contro Trevigno una prova di forza per la Gibova che tra l'altro ora ha prenotato David Cournot dalla retrocessa Cremona che si dovrà trovare una quadra per il tesserato della Vanoli voltiamo passi ulteriormente scendiamo in Serie B dove si è giocato anche qui il turno numero 27 nel weekend pasquale si è giocato anche a Pasqua cosa abbastanza inedita peraltro anche per le Minors il big match si era giudicato Vigevano battendo in volata Omenia con Gatti in particolare evidente a suono di trip nel finale di partita Gatti e Ferri i giocatori chiave per la formazione di Paolo Piazza che resta solo al secondo posto dietro la capolista San Miniato punti importantissimi per la Robur Varesi in rimonta contro Olegio dopo il meno 14 del primo quarto si sblocca la formazione di Donati con 21 di Allegretti e 18 di Marunca nell'avorata per il quarto posto invece Legnano segna il passo per motivi indipendenti della sua volontà recupera domani sera alle 20.30 la sfida Cattolini contro la Canestro di Gorno quindi sicuramente appuntamento da non perdere per i tifosi degli Knights per mantenere il vantaggio nei confronti di Pavia che a sua volta ha una partita da recuperare contro la Canestro di Gorno Risoscotti vittoriosa nettamente in casa contro Alba e Cora con l'aggiunta di Daniele Quartieri per l'elevato del Bernareggio da dove potrebbe arrivare anche il giocatore ucraino Kirill Zezzeroclu vediamo se verrà perfezionato anche il secondo attestinamento ne parliamo con il coach Ugo Ducrello Ugo Ducrello una Pasqua festeggiata da Risoscotti con vittoria a casa liga per Entoria un più 25 nel primo tempo e a questo punto l'obiettivo playoff è raggiunto anche dal puntista aritmetico Ciao Peppino buonasera a tutti sì dai siamo contenti abbiamo festeggiato una una bella Pasqua i ragazzi sono stati bravi abbiamo giocato contro una diretta concorrente per il quinto posto abbiamo avuto le nostre difficoltà per quanto riguarda dal punto di vista numerico perché non sono stati della partita né Soventino né d'Alessandro i ragazzi sono stati molto bravi molto solidi soprattutto nella prima parte e poi hanno giocato anche gli altri ragazzi che hanno giocato poco la squadra ha dimostrato di essere molto solida di essere veramente un gruppo e di questo sono molto contento e molto soddisfatto per la azione consistente con 5-5-4-0 in doppia cifra si diceva obiettivo playoff ormai acquisito ci va per la volata di fatto un testa a testa con Legnano per il quarto posto che darebbe il fattore campo guarda non me lo aspettavo onestamente di essere a questo punto di lottare anche per il quarto posto perché quando sono arrivato noi eravamo sempre a noni pian piano siamo saliti in classifica di posizione è vero che Legnano secondo me è difficile superarlo perché comunque è 2-0 direttamente con noi noi pensiamo partita dopo partita è chiaro che se dovessimo agguantare il quarto posto sarebbe un grandissimo successo mi accontento del successo che per ora siamo quinti vediamo partita dopo partita a dire il piazzamento d'ingresso conta entrarci in forma nei playoff e mi sembra che la Rizio Scotti stia crescendo tra l'altro con qualche rumore di possibilità di innesto ulteriore ma guarda onestamente abbiamo preso il quartiere te lo dico subito perché già stamattina è uscito la notizia sulla provincia i tuoi colleghi sono molto attenti e scrivono immediatamente e sono contento di questa aggiunta ringrazio naturalmente la società che fa questo sforzo secondo me è una buona aggiunta fisicamente siamo bene dispiace solamente di questi problemi che abbiamo con Sorrentino e con D'Alessandro augurandomi che prima del playoff li posso vedere in campo perché eventualmente diventiamo lunghi profondi abbiamo un pochettino di esperienze in più con un quartiere Sorrentino e quindi dopo vediamo cosa possiamo fare magari la prima di playoff un turno incrociando sicuramente contro la squadra di girone B hai già dato un'occhiata alle gerarchie del girone di fianco all'eventuale avversario me lo dico nei miei dirigenti perché io sono più concentrato tutte le situazioni che ci sono qui a Pavia alla mia squadra che ad altre situazioni perché nelle ultime settimane abbiamo un pochettino corso l'emergenza Sorrentino e non da meno l'ultima quella di D'Alessandro so che c'è Bergamo eventualmente San Bedemiano ma chiunque dovesse arrivare dovessimo beccare so benissimo che sono delle buone squadre perché arrivare nelle posizioni alte in classifica vuol dire comunque hai qualcosa in più so che l'altro girone è anche un buon girone ci sono dei buoni giocatori squadre consolidate anche l'anno scorso e quindi so benissimo che chiunque becco sarà una partita vera difficile difficile per entrambe le squadre naturalmente però dove ci possiamo divertire possiamo vedere anche una discreta palacanestro carrellata volante infine per quanto riguarda il girone B della serie B continua testa a testa fra Cividale e Cremona al comando della classifica in cui la Juvi comunque valuta la possibilità di inserire un innesto per puntare decisamente al salto di categoria mercato di serie B che ricordiamo si chiuderà il 30 aprile ci sono ancora dei senior e degli under che anche qui nella finestra si chiuderà il 30 aprile a disposizione un passo avanti decisivo probabilmente per Desio che spazza via Bernareggio in un derby amaro per la formazione di gocci michelani che retrocede aritmeticamente in serie C-gold Desio che prenota di fatti playoff match ball il casalingo il prossimo turno contro Olginate per la truppa di Ghirelli e a questo punto è davvero tutto per la puntata numero 20 di Basket Week un cordiale saluto a chi ci segue sulla pagina Facebook in diretta e chi ci segue invece sul digitale terrestre su Radio.tv canale 861 a chi ci segue